Il Covid-19 è un virus influenzale, è indubbiamente molto endemico, è assolutamente molto virale, ma abbiamo grosse speranze per poter configgere in fretta questo virus. Innanzitutto la segregazione, le misure cosiddette protettive che si sono state prese dal governo, dal ministero e anche se volete dalla nostra regione, di isolare il più possibile gli individui che sono affetti e i contatti che ci sono fra di noi. In secondo luogo le misure protettive per gli individuali, quelle che vengono chiamate PSI, le mascherine e tutte quelle misure che prendiamo costantemente per ridurre il contatto potenziale con il virus. Stiamo anche analizzando la possibilità di intervenire farmacologicamente, questo è in momento ancora oggetto di ricerca clinica, abbiamo presentato alcuni programmi e speriamo di poterli adottare il più presto possibile, non solo per la nostra popolazione sanitaria ma anche con la popolazione civile. Noi abbiamo fatto due cose per la ricerca nel confronto del Covid, ma in qualche modo anche nel confronto del cancro, dei malati di cancro. Abbiamo preso le informazioni che provengono dal mondo scientifico, sappiamo che il virus produce 26 proteine, abbiamo guardato queste 26 proteine del virus come interagiscono una per una nei confronti delle proteine umane, cosa si legano e quale di questi legami può essere interferito con delle medicine. Stiamo pertanto cercando sempre più di interferire con la replicazione virale adottando medicine che possono contemporaneamente curare il cancro e contemporaneamente impedire la replicazione virale. Io credo che questo sia un grande risultato che potremmo ottenere abbastanza breve, chiaramente attraverso sempre la sperimentazione e la ricerca che nel nostro istituto è sempre stato il punto di forza per poter curare sempre meglio i nostri malati. Mi sento di dire ai nostri pazienti di essere tranquilli e sereni nel continuare ad affrontare il percorso diagnostico e terapeutico presso l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico della Romagna, non solo sulla sede di Meldiola ma anche sulla sede di Forlì e di Cesina e di Ravenna per la radioterapia, perché sono state messe in atto diverse procedure per cercare di identificare precocemente i malati che hanno anche solo iniziali sintomi, vengono tutti chiamati a casa alcuni giorni prima, un paio di giorni prima e viene chiesto quello che viene chiamato il triage, viene chiesto loro se hanno qualche sintomo che possa essere sospetto. Poi viene fatto un triage, un triage vero e proprio in cui viene misurata nuovamente la temperatura, viene richiesto nuovamente la conferma dello stato di salute e infine quei pochi casi sospetti che avessero nel frattempo manifestato l'inizio di qualche sintomatologia vengono controllati radiologicamente ed eventualmente con una visita dedicata. Infine, e questo è in ottemperanza alle linee regionali, cominciamo a fare anche i tamponi nelle persone, i tamponi o comunque le indagini necessarie, cosiddetti test rapidi, per poter indagare i nostri malati che vengono presso le nostre tuture. E questo viene fatto non solo al personale che è in qualche modo affetto da patologia oncologica, ma viene fatto anche sul personale sanitario. Oggi il nostro personale sanitario è quanto mai più prezioso. Noi vogliamo essere vicini al nostro personale sanitario nel ringraziarli per la dedizione, la passione, fatemi dire, l'eroismo che in qualche modo li ha contraddistinti in questi giorni, ma che ancora tutti i giorni continuano a dedicare i nostri malati affetti da cancro e in generale ai nostri pazienti. È nostra cura avere per loro un'attenzione maggiore, maggiore di quella che può essere negli altri giorni, maggiore di quella che può essere negli altri momenti. Come diceva il nostro maestro Dino Madori, anima e coraggio. Anima e coraggio perché abbiamo tutti gli strumenti, abbiamo dei meravigliosi ricercatori, abbiamo dei meravigliosi professionisti, abbiamo un personale anche di assistenza alla sanità che in questo momento sta mettendo al massimo della propria professionalità. Le cure che noi siamo in grado di fare in questo momento sono il 96% dell'attività di sempre. Siamo in grado di dare una risposta a tutti i nostri malati in senso diagnostico e in senso terapeutico. Tutti i professionisti sono al lavoro, tutti noi siamo in grado di dare una risposta vera e positiva ai nostri malati che ci chiedono aiuto. Il virus in questo momento non sta minando le nostre certezze e non sta minando le nostre professionalità. Riusciremo a darvi un aiuto e siamo certi di potervelo dare nel massimo della sicurezza. Io ho fiducia che quello che sta succedendo in qualche modo ci rigeneri. ci rigenerano un nuovo spirito di solidarietà, uno spirito anche di adesione reciproca all'aiuto uno con gli altri. Questo credo sia una cosa importante, questo momento triste che sembra triste dove alcuni dei nostri malati possono avere anche paura debba essere contrastato con una grande speranza e una grande fiducia. E questa fiducia spero di consegnarvela a voi in questo momento con la certezza che noi saremo in grado di risolvere questa situazione. Grazie. Grazie.